ahahahah non è caduto Se lo ricordi l'inghio? Eh? Oh! Ah, scusate. Ma sapete la ragazza con cui mi vedo da un paio di mesi? Sì, Tania. È tutto il giorno che volevo messaggiargli e tutto il resto. So che non festeggia l'8 marzo, volevo fare una sorpresa, volevo portarla fuori. Eh, come risponde? Vado a vedere se è a casa. Se non c'è, rimango giù con gli altri. Poverino, però, dai. Ma chissà dove è Tania? Ma Tania è qui! Festa allora! Si trovi una cazzola! Ma chi vuole essere, Uto? Eh? E... 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 Demonstrate Oh my god Please Ice cream Oh my god Oh my god Oh my god